Le vicende della Ragusa Catania sono ben note. Da gennaio a primi di agosto hanno presentato uno scenario di continua incertezza, oscillante tra il vecchio percorso sul quale sindaci e territori ebleo hanno puntato decisamente, quindi realizzare l'opera con un progetto di finanza e la Sark di Vito Bonsignore. E l'idea del governo è in carica di azzerare la presenza del privato e finanziare l'opera con fondi totalmente pubblici anche per eliminare il fardello di un pedaggio carissimo. Alla fine il ministro Toninelli, pur sbeffeggiato per mesi e sempre circondato da un clima di sfiducia sulle possibilità di successo di questo ribaltone nell'iter dell'opera, ce l'ha fatta a raggiungere un accordo con il privato e quindi ad aprire la nuova fase. Poi però è caduto il governo, il percorso naturalmente si blocca e nel nuovo governo ci potrebbe essere quel partito dalle cui file sono partite le bordate più dure, come ad opera di Davide Faraone, senatore PD in marcia a piedi sulla Ragusa Catania, Onello Di Pasquale, deputato Arse, che ha presentato un esposto alla procura. A questo punto che succede alla Ragusa Catania? Questo purtroppo bisognebbe avere la palla di vetro per capire quello che potrà succedere. È chiaro che si era preso una strada molto precisa da questo governo, da questi ministri in carica, si era preso una strada molto precisa che potrebbe essere una strada comunque positiva, nel senso che se l'opera pubblica viene fatta interamente con risorse pubbliche è ovviamente una cosa migliore. Questo avrebbe forse comportato un ritardo nei tempi, ma certamente una riduzione delle tariffe, addirittura di un azzeramento del pedaggio. Noi saremo vigili, verificheremo quello che sta per succedere, non si può ancora capire quello che succederà, se si formerà un nuovo governo e quindi proseguirà questa legislatura o addirittura se si andrà a votare, ipotesi che al momento è sempre la più probabile. Questo chiaramente comporterà ovviamente un rallentamento, una sospensione dei termini, diciamo così, e poi sarà tutto rimesso al nuovo governo. Io credo che comunque una parte importante che riguarda la parte degli uffici, dei funzionari, dei funzionari del Ministero delle Finanze, dei funzionari del Ministero delle Infrastrutture, e un discorso con loro può proseguire, perché comunque sappiamo che sono uffici e funzionari che continuano a lavorare anche a prescindere da chi sia il Ministro in carica. Noi continueremo ad avere interlocuzione con i funzionari in questo momento, quando ci saranno nuovi ministri ovviamente ricominceremo a parlare anche con loro.